Un allenamento per lui, però è bello vedere questi ragazzi che non snobbano, come ho già ricordato, queste manifestazioni, pur essendo ormai ragazzi che corrono d'alto livello. E ci sarà ovviamente un distacco notevole. Qual è stato il tempo di Matteo? 9.21, c'è anche la distanza però? 2.8 e 5. 2.8 e 5.